incidente sul lavoro è grave un operaio caduto da tre metri d'altezza weekend di vandalismi a pesaro segnali stradali divelti e panchine rovesciate a fano 20 casi di febbre denghe per il comune la situazione resta sotto controllo la sanità è sempre più terreno di scontro fra il partito democratico e la regione marche basket la team system torna a sostenere la vl sarà il secondo sponsor sulla maglia buona serata eccoci pronti per il nostro telegiornale oggi lunedì 16 settembre apriamo questa edizione con delle notizie di cronaca relative a due atterraggi di eli ambulanza in provincia avvenuti proprio oggi pomeriggio il primo riguarda pesaro e la centralissima via manzoni dove c'è stato un incidente sul lavoro poco dopo le 13 un 65enne che stava effettuando lavori ad un'abitazione privata è infatti caduto da un'altezza di tre metri e mezzo e ha riportato ferite gravi da richiedere l'elisoccorso sul posto anche la polizia e l'ispettorato del lavoro per capire la dinamica dell'accaduto poco prima delle 14 c'è stato invece un grave tamponamento in autostrada fra marotta e fano il tratto di autostrada è stato interrotto per quasi due ore per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza e consentire ai vigili del fuoco di estrarre i feriti dalle lamiere e consegnarli ai soccorsi per il conseguente trasporto all'ospedale torrette di ancona e in questo scorso weekend a pesaro si sono registrati diversi episodi di vandalismo in particolare nelle zone di villa san martino e cinque torri allora ne parliamo in questo prossimo servizio è stato un weekend all'insegna del vandalismo nel quartiere di villa san martino che nella notte di sabato ha visto il consumarsi di un vero e proprio atto vandalico ai danni di tre cartelli stradali che sono stati distrutti e buttati a terra prontamente segnalato alle autorità il fatto da parte dell'assessora pesarese mila della dora ad aiutare gli inquirenti anche le videocamere di sorveglianza presenti sul posto a tutto ciò si aggiunge poi un'altra situazione quella del parco nei pressi del campo da baseball di pesaro dove alcuni telespettatori ci hanno segnalato lo stato di una panchina ribaltata e di rifiuti gettati sul verde anziché nei cassonetti torna dunque agli oneri della cronaca il quartiere di villa san martino dove già qualche mese fa si erano recate le telecamere di rossini tv per attenzionare un fenomeno di baby gang che si era verificato nei pressi della zona del mercato di quartiere che siano sempre gli stessi o un nuovo gruppo non è dato saperlo resta però il danno fatto alla comunità e la richiesta di un pronto intervento da parte delle forze dell'ordine che possa porre fine al fenomeno anche a fronte di quanto accaduto proprio questo weekend diciamo che sabato purtroppo sono successi diversi eventi ho assistito e anche subito segnalato ai cartelli stradali di velti fra via san martino e via guido d'arezzo subito il centro operativo intervenuto per ripristinare per mettere in sicurezza quella zona perché i pali erano anche sul marciapiede quindi pregiudicavano l'utilizzo sono atti che condanno con fermezza atti di invandalismo che non possono passare inosservati la polizia locale sta già facendo le indagini e sono convinta che riusciremo a rintracciare i responsabili perché sono danni a carico di tutta la collettività che non ci possiamo permettere e sono gesti che fanno veramente male a tutti e al di là del servizio che vi abbiamo appena mostrato pesaro resta una delle province più sicure d'italia lo certifica l'annuale classifica dell'indice di criminalità pubblicato oggi dal sole 24 ore sulla base delle denunce di reato pesaro ha un indice di criminalità che la colloca infatti al 92 posto su 106 province italiane dati di fatto analoghi allo scorso anno quando fu 91esima nelle marche ad avere una graduatoria migliore soltanto macerata che è 97esima andando a scandagliare i dati sotto la media emerge che però l'ultima è stata un'annata infelice per quanto riguarda gli omicidi volontari con pesaro che si colloca al 22esimo posto in italia posizioni alte anche per il furto di ciclomotori 20esimo posto e per denunce di usura 28esimo posto dati controbilanciati da voci minime e residuali come quella dello sfruttamento della prostituzione in cui pesaro è 103esima in italia ed ora vediamo alcuni aggiornamenti sui casi di contagio da febbre denghe che dallo scorso mercoledì hanno cominciato a palesarsi nella città di fano i casi risultano stabili rispetto a ieri e si sono fermati alle 20 unità di questi tre pazienti sono stati ricoverati nel reparto malattie infettive di pesaro ma risultano già in fase di dimissione comune e azienda sanitaria giudicano la situazione sotto controllo e improbabile fase regressiva il comune intanto ha deciso di rinviare l'ultima disinfestazione in programma dalla mezzanotte di questa sera in vista di un peggioramento meteorologico disinfestazione che sarà comunque riprogrammata nel corso di questa settimana e restiamo in tema di sanità e ci occupiamo delle politiche della regione marche in tema ospedaliero che finiscono sotto accusa da parte del sindaco biancani e dell'intero pd pesarese megafono alla mano all'ingresso del pronto soccorso il sindaco biancani e il segretario del partito democratico pesarese giampiero bellucci giudicano mio per la scelta di lasciare inutilizzato una palazzina covid a pochi metri da un reparto emergenza in affanno così come sollevano dubbi sull'avanzare del progetto del nuovo ospedale di muraglia sono due dei tanti temi che l'epid pesarese ha sbandierato sabato mattina in compagnia dell'intera giunta delle forze di maggioranza consigliare dito puntato sulla politica regionale in tema di sanità oggi come amministrazione comunale come sindaco posto nelle ultime settimane dei problemi di problemi che ritengo importanti che vanno dal non utilizzo di una nuova palazzina realizzata proprio per il pronto soccorso a un atto aziendale che ancora ad oggi non è stato condiviso con le amministrazioni al tema della salute mentale dove ancora ad oggi non si capisce dove saranno portate queste queste famiglie queste persone fragili e che quindi meritavano un'attenzione migliore che ancora ad oggi non si sa se o interverrà o non interverrà la regione sulla parte dell'ex manicomio di loro proprietà perché noi stiamo sistemando quella una parte con 15 milioni di euro e rischiamo di non avere l'abitabilità perché la regione non fa neanche quella manutenzione minima non sappiamo se il centro sull'autismo andrà avanti o non andrà avanti dove dove verrà realizzato ho ricordato che sono passati quattro anni da quando sono il governo regionale l'amministrazione comunale deve io come sindaco deve in qualche modo occuparmi della salute dei cittadini ribadisco la volontà di un confronto positivo di un confronto costruttivo della voglia di condividere e di dare come dire un possibilmente anche un contributo ma fino ad oggi non ho avuto risposta le uniche risposte che ho avuto appunto sono dal direttore generale che dal mio punto di vista non ha colpe perché è una persona che è arrivata da poco perché le scelte che stanno facendo non dipendono da lui ma dipendono dalle scelte precedenti e anche ricordato che l'atto aziendale a tutt'oggi ancora non è stato approvato mi auguro ovviamente che venga condiviso e ho rilanciato sul fatto che l'ex direttore generale la dottoressa naglia storti dal mio punto di vista è ha lasciato il suo incarico perché l'atto aziendale che ci verrà sottoposto sicuramente prevederà che non cambierà nulla che rimarrà tutto come oggi anche perché è già stato dichiarato che ogni posto da dirigente sia sanitario sia amministrativo verrà mantenuto quindi non riesco a capire cosa vuol dire fare la riorganizzazione e quell'attività di razionalizzazione che andava fatta ad oggi non si vede il segretario bellucci si concentra invece su un progetto dell'ospedale di muraglia reputato in stallo per insufficienza di risorse chiediamo di condividere il progetto prima possibile secondo di fare un cronoprogramma reale sappiamo che si tratterà di un appalto integrato in cui le imprese dovranno presentare le loro soluzioni che saranno soggetti a commissione di valutazione dopodiché ci sarà la realizzazione dell'esecutivo dalla parte dell'impresa giudicatrice i tempi non a pesaro in genere degli appalti integrati vanno da 10 a 12 mesi ora non c'è il progetto dovrà essere fatta la gara d'appalto io penso che siccome a settembre dell'anno prossimo si vota si arriverà in maniera rabberciata forse a un pseudo affidamento per cui chiarezza su quello da lì decade tutto il sistema dei servizi sanitari abbiamo ridimensionato un ospedale che doveva essere di servizio per tutte le acuzie della provincia a ospedale di pesaro questo ha provocato che cosa demotivazione di tutto il personale qualificato e specializzato dei medici dei principali servizi dipartimenti della sanità provinciale che si vedono in pratica a disposizione di un'azienda che ora deve mettere insieme i resti di azienda Marche Nord ospedaliera con i servizi del territorio accuse infondate disinformate irresponsabili nicola baiocchi il presidente della commissione sanità della regione Marche replica così ai temi sanitari sollevati dal centro sinistra pesarese ascoltiamolo il partito democratico punta il dito su una destra che affosserebbe la sanità pesarese dalla regione rispediscono le critiche al mittente con il presidente della commissione sanità nicola baiocchi che ai nostri microfoni giudica le dichiarazioni emerse nel sit in di sabato al pronto soccorso come disinformate irresponsabili e foriere di ingiustificati allarmismi non esiste nessun tipo di giustificazione non esiste nessun tipo di ritardo e nulla è riconducibile soprattutto a una carenza di finanziamenti finanziamenti ci sono sono sufficienti per la costruzione del nuovo ospedale l'inter sta andando avanti come è stato anche avanzato dall'assessore all'infrastruttura edilizia ospedaliera francesco baldelli quindi veramente non si comprende questa uscita questa buttata da parte del segretario che serve solo a creare dell'allarmismo delle tensioni in città su una tematica dove non ce n'è veramente bisogno baiocchi interviene anche sul caso del centro per l'autismo monitorato da anni dallo stesso consigliere regionale pesarese questo progetto sì si sono stati dei problemi legati alla sede di Alfano dove poi è stata collocata poi la COT quindi c'erano delle problematiche legate ai fondi del PNRR ma come confermato dal direttore generale Alberto Carelli siamo sostanzialmente a un punto importantissimo e a brevissimi ci saranno delle novità sulla progettazione sulla collocazione sul luogo dove la faremo è un impegno che ci siamo presi e sicuramente lo porteremo avanti il sindaco Biancani anche sabato ha stigmatizzato l'assurdità di avere al San Salvatore una palazzina inutilizzata a due passe da un pronto soccorso spesso in overbooking di posti letto sarebbe opportuno che prima di lanciare proposte idee che non hanno nessun tipo di fondamento né tecnico né gestionale il sindaco si informasse chiedesse magari al direttore generale o ai tecnici per quale motivo quella palazzina non viene utilizzata per la funzione che Biancani richiede cioè veramente delle modalità veramente poco chiare che non hanno veramente nessun tipo di utilità solo quella di creare veramente allarmismo e poi c'è il caso dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto col comune pronto ad iniziare la sua parte di riqualificazione attendendo analoghi segnali dalla regione per l'ampia porzione di sua competenza la situazione è molto chiara il comune ha partecipato a questo bando solamente perché la regione Marche che è la proprietaria dell'immobile ha concesso la possibilità al comune di Pesaro di partecipare quindi se il comune di Pesaro ha vinto un progetto pinco per 15 milioni di euro lo deve parzialmente anzi se non nella maggior parte all'intelligenza della regione Marche che dopo 50 anni di mobilismo su questi immobili ha trovato una soluzione la soluzione è questa il comune dovrà fare la sua parte la regione sta valutando in un modo concreto parliamo di investimento di più di 20 milioni di euro è giusto che la regione Marche faccia le sue valutazioni e capisca cosa fare di questi immobili non c'è nessuna volontà di bloccare niente ma anzi se non era per questa amministrazione regionale lo stabile del San Benedetto sarebbe rimasto ancora in declino ed accusare ora la regione dei crolli e del declino dopo che per 30 anni è rimasto in questa situazione mi pare veramente paradossale Ed ora ci occupiamo di una battaglia per l'inclusione quella portata avanti dai familiari di Anna bambina pesarese con disabilità che reclama una rampa d'accesso alla sua scuola Collodi una battaglia che trova il sostegno di tanti cittadini L'anno scolastico è cominciato e ogni mattina Anna con la sua sedia a rotelle viene caricata a braccia dai genitori per superare rampa di scale e accedere alla sua aula scolastica della primaria Collodi di via Ugolini una barriera architettonica che non si sta battendo e che ha chiamato in piazza i compagni di classe di Anna con i loro genitori per manifestare il dissenso verso la mancanza di una rampa per disabili nell'istituto e la bocciatura dell'ipotesi di costruirne una sull'ingresso principale Noi attualmente la portiamo in braccio per poterla fare entrare insieme ai suoi compagni altrimenti saremmo costretti a entrare da un ingresso secondario che è su un'altra via e quindi Anna dovrebbe entrare da sola e abbiamo detto no a questa cosa in maniera netta e quindi adesso siamo costretti a portarla sia lei che la sua sedia a rotelle in braccio Il comune dal canto suo al posto di una rampa giudicata incompatibile con gli spazi di ingresso della Collodi ha previsto la realizzazione di uno spazio calmo vale a dire una stanza d'emergenza per le persone con disabilità che non risolve però il problema dell'inclusione come sottolineato anche dai consiglieri comunali d'opposizione che hanno solidarizzato con la manifestazione di piazza Lo spazio calmo che è garantito per gli incendi in alcuni casi non è assolutamente tutelato in caso di terremoto siamo alla follia se in un terremoto facciamo entrare una bambina in una stanza e la guidiamo lì in attesa che arrivano i soccorsi Per quanto riguarda via Fermi il nostro è un no secco se avessimo voluto andare in via Fermi ne avremmo avuto la possibilità all'iscrizione non abbiamo voluto andare lì e non è assolutamente nostra intenzione spostarci da quella scuola se decideremo di spostarci decideremo noi in che scuola andare Continuano le segnalazioni qui su Rossini TV di alberi caduti o pericolanti dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi e che è di nuovo alle porte come previsto dal bollettino della protezione civile con rischio temporali per l'intera giornata di domani In queste immagini vi mostriamo una grande quercia franata al suolo a due passi dal transito stradale di via Montebianco nel quartiere di Borgo Santa Maria Un altro grosso albero è invece in procinto di sradicarsi nel lungomare pesarese in prossimità del complesso di Villa Marina In tema di allagamenti viene anche sottolineato lo stato d'otturazione delle grondaie del cimitero di Candelara come mostrato in queste immagini per le quali ringraziamo i nostri telespettatori e vi ricordiamo sempre il numero dedicato alle segnalazioni 370-366-7210 E in tanti avete segnalato nel corso di questa estate comportamenti di sosta selvaggia nel lungomare pesarese dopo una riunione con Pesaro Parcheggi il sindaco Biancani ha annunciato uno stop alla sosta disordinata dei motorini in zona mare, in vista della prossima estate soprattutto nella zona di Levante dove il parcheggio degli scooter invade sistematicamente marciapiedi e anche stalli per disabili il sindaco Biancani preannuncia che è in corso un nuovo progetto pensato per nuovi spazi di sosta dalla prossima estate Ed ora cambiamo argomento perché tre alberghi pesaresi ospitano altrettanti artisti per creare performance musicali, teatrali e pittoriche ispirate proprio al vivere quotidiano degli hotel Si chiama Hotel Labyrinth l'originale progetto di Pesaro Capitale della Cultura promosso da Amat e Appa Hotels Hotel Labyrinth è un progetto che Amat cura per Pesaro Capitale della Cultura in collaborazione con Appa, Associazione Pesarese Albergatori è un progetto molto speciale che prevede un ciclo di residenze multidisciplinari che prevede quindi degli artisti che abiteranno in questo periodo di settembre-ottobre tre alberghi della riviera pesarese è un progetto speciale perché i tre artisti che vengono da ambiti molto diversi quindi dall'ambito musicale, dall'ambito di scrittura teatrale e dall'ambito coreografico questi tre artisti abiteranno tre alberghi quindi l'Hotel Atlantic, l'Hotel Metropole e l'Hotel Nouvelle de Ben e in questo periodo si lasceranno ispirare da quello che vedranno da quello che vivranno in questi hotel per trarre del materiale di ispirazione per creare nuove opere, nuove opere performative per anche dei lavori futuri sono Paolo Benvenu per quanto riguarda l'ambito musicale che abiterà appunto l'Hotel Atlantic Laura Sicignano che è stata anche direttrice di grandi teatri al Teatro di Catania, al Teatro di Genova che si lascerà ispirare e scriverà una composizione teatrale di una scrittura e poi Giuseppe Sannio che è un giovane coreografo in ascesa che collabora con diverse compagnie di danza internazionali che abiterà l'Hotel Metropole e quindi concluderà questo ciclo di residenze Di tutti i luoghi che conosco l'Hotel è veramente un luogo dove uno lascia una piccola parte di sé e allora esplorare quella piccola parte rispetto alla complessità di un'esistenza intera potrebbe essere interessante Vengo qui e raccolgo il suono delle stanze, quando sono piene, quando sono vuote, dei corridoi, delle cucine Gli anfratti meno luminosi e l'idea è perciò partire da questo silenzio che è un silenzio parziale e da lì innestare intuizioni C'è il mare davanti, penso di poter avere l'opportunità di avere degli orizzonti da guardare e ricreare dei mondi all'interno di un mondo già specifico e preciso cercando di considerare anche le esistenze che sono passate in questo luogo magari mi faccio spiegare dai proprietari i loro clienti più particolari E quindi ne verranno fuori tre progetti originali con tre artisti che hanno corrisposto a una call che verranno pensati, concepiti durante la coabitazione con i turisti e verranno poi nelle settimane prossime restituiti ai turisti stessi in alcuni casi anche hotel chiuso e al pubblico che vorrà assistere a questi spettacoli per una volta non a teatro, in una sala ma in uno spazio originale che quindi si va a ridefinire anche solo come esperimento nella sua funzione Il 22 settembre, il 29 settembre, il 6 ottobre nei tre alberghi dove appunto il pubblico potrà vedere e potrà percepire questa traccia performativa per queste nuove opere che nasceranno Grande partecipazione ieri a Piobbico per il tradizionale Festival dei Brutti che ha rieletto per il tredicesimo mandato Giannino Aluigi, detto La Belva presidente del club che conta 30.000 associati Elezione arrivata dopo tanti momenti di intrattenimento dal corteo dei brutti alla festa delle cantine Sabato 21 e domenica 22 settembre nel borgo di Gradara torna il Gradara Ludens Festival Tema di quest'anno sarà l'aria e i giochi d'aria all'interno di due giornate di divertimento fra giochi tradizionali, giochi da tavolo, giochi di ruolo e momenti d'approfondimento Ed ora andiamo a parlare dello sport momento d'oro per la Vis Pesaro che battendo il Pontedera 2 a 0 grazie ai gol di Di Paola e Palomba ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva che la spedisce al secondo posto dopo quattro giornate di campionato si tratta della miglior partenza della storia bianco-rossa nei campionati di Serie C La Vis tornerà in campo venerdì alle 20.45 ancora al Benelli nel match d'alta classifica contro la Ternana E dalla Vis passiamo adesso alla VL che è ancora immersa nella sua preparazione precampionato ma intanto si costruisce spalle solide per la Serie A2 ritrovando uno sponsor importante che mancava da otto anni Siamo molto orgogliosi di poter annoverare un gruppo importante come la Team System nella nostra famiglia Consideriamo tutti gli sponsor, i consorziati una famiglia perché rappresentano la spina dorsale, il fulcro di tutto il nostro club senza di quale non potremo andare avanti Siamo molto contenti e per questo speriamo anche che il loro impegno si concretizzi anche negli anni successivi con un maggior impegno all'interno del club Sarà nostro secondo sponsor e abbiamo quindi concluso tutta una trattativa e già da questo campionato saranno presenti nella maglia Team System è un'azienda tra le prime se non la prima a livello nazionale nel settore del digitale ha oltre 4.000 dipendenti a Pesaro ne ha credo più di 500 quindi è un'azienda di notevole prestigio L'azienda è stata presente nelle maglie della VL dal 2012 al 2015-16 si sono create le condizioni considerando che i dirigenti hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto con la nostra città per un loro inserimento nella maglia e loro hanno colto l'occasione sono stati contenti e noi siamo ancora più contenti perché è davvero una partnership interessante per tutti Io c'ero c'ero nel 2013 poi Team System è stata accanto alla VL anche qualche anno prima che vuol dire che sto invecchiando anch'io un po' di anni sono passati ma sono anni in cui siamo sempre stati vicino alla città e anche alla squadra e devo dire che in questi anni Team System è cambiata tanto perché a quei tempi era una piccola impresa oggi è un'impresa di quasi 5.000 persone con una diffusione sul territorio molto ampia in Italia e in Europa quello che conta è che però a Pesaro c'è ancora il cuore pulsante dell'azienda insomma una delle aree più importanti soprattutto dal punto di vista della tecnologia qui c'è il nostro più importante hub tecnologico con oltre 500 persone nella sede di Pesaro che comunque poi comprende anche tutta l'area, tutta la zona quindi Pesaro è molto importante per Team System e devo dire il basket sappiamo molto bene è importante per Pesaro quindi questo matrimonio era prima o poi diciamo sicuramente molto bello farlo ci siamo riusciti finalmente per quella che è diciamo una nuova fase che vogliamo costruire insieme insieme alla società e allora davvero complimenti alla Team System per questo importante appoggio alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e intanto attenzione restate con noi subito dopo questa edizione un nuovo appuntamento con Pesaro capitale della cultura la natura della cultura questa sera parleremo di Peglio e il suo vivaio perché questa è la settimana dedicata proprio a Peglio quindi vi aspettiamo tra pochissimo e poi di lunedì come sempre il nostro appuntamento con CECAP Obiettivo Salute vi aspettiamo alle 21.20 perché questa sera parleremo dell'attac addominale e lo faremo con la dottoressa Lucia Mingolla che è medico-chirurgo specializzata in endocrinologia mentre io vi aspetto domani alle 7.20 in diretta con la nostra imperdibile rassegna stampa la lettura dei titoli dei quotidiani locali che potete vedere sul canale 80 chiaramente in diretta sulla pagina Facebook in diretta anche sulla nostra applicazione oppure su rossinitv.it grazie per averci seguito e buona serata a tutti